Processo la tappa con Miguel Martinez. Miguel Martinez, non hai bisogno di presentazioni, ma ridiciamolo. Sei stato il campione olimpico a Sydney 2000, bronzo nel 1996 e poi tra volte campione del mondo. Insomma, sei stato un grande della mountain bike, Miguel. Sì, ma è vero che io ho stato uno dei primi a vincere anche le Olimpiadi. Il primo è stato Bob Brangens nel 1996, in Atlanta, quando ho finito il terzo. Avevo solo 20 anni e poi ho fatto 4 anni da aspettare per vincere questa medaglia di oro, che per me è la più grande soddisfazione della mia vita. Sono appena finite le Olimpiadi, no? Le hai guardate intanto? Sì, 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 io guardo praticamente tutti gli sport, soprattutto quest'anno perché è stato in Francia e di vedere le cerchi delle Olimpiadi, di girare dappertutto in Francia, per me è stato un emozionale particolare perché quando vinci sei dentro un mondo dove ti dici ah, ok, ho preso una medaglia, sono tanti medagli, ma quando sei all'altra parte della barriera che tu vedi gli altri vincere e ti dici, ma veramente un grande complimento a loro e ti dici, ma ok, ma... Ce l'ho anch'io. Ce l'ho anch'io e questo mi è stato come anche di più orgoglioso, è una cosa di mia vita che so che dentro di me non conviene nulla a mia vita, anche il mio modo di parlare con le gente, di stare in vita, perché è un momento che sono riuscito a vivere e questo è bello, ma è un bello momento di presente, sì. Le riguardi mai le tue medaglie? Sì, allora, la medaglia dell'Olimpiede devo la tenere in mano almeno una volta ogni 5-6 mesi, ma devo la tenere. Per me è così, perché è veramente come un cuore che batte, un cuore... perché questa medaglia, quando la tengo, io faccio una... io chiudo gli occhi e io faccio una ritromarcia di 24 anni fa, subito. Cosa ti ricordi, ecco, in quel momento? Cosa rivedi? Per me è un... quando avevo questa medaglia sul podio, ho avuto un momento, come dire... non so come spiegare, perché è un momento di vita, di sport, dove tu dici, ma non posso più andare più alto di questo. e sono riuscito a toccare il tetto del cielo, come dire, dello sport, e adesso io faccio parte della leggenda dell'atleti che ha iniziato tanti anni fa a Atena sul primo sport, come un dio dello sport, in sovra. ma dopo questo è... non so, è difficile di descrivere. Sei rimasto comunque un ragazzo umile, l'hai detto, anche nei tuoi comportamenti dopo la vittoria non è cambiato niente, però la gente ti riconosce, sei un grande campione, un grande campione che però non ha mai smesso di pedalare. Hai ancora voglia di fare fatica, Miguel, anche qui ad Appenninica, insomma, vai forte ancora. Sì, io ho forte, ma meno da prima. Prima facevo tanti sacrifici veramente enormi per andare a vincere. Adesso io faccio la fatica, ma non è più uguale, perché non è che ho bruciato un po' tutto quello che devo bruciare per andare a vincere dentro il mio cervello, ma adesso io prendo solo il piacere di andare in bici e io provo sempre di mettere in accordo con me stesso una positività dentro la difficoltà. Non è facile di stare così, ma io riesco a stare felice in gara anche quando io faccio fatica, perché io vado meno forte da prima, io faccio meno fatica da prima. Come dire, tanti anni fa ero a 100% di mio maximum, adesso io vado a 90% e alla fine arriva il mio 100% e così mi fa ricordare un po' il mio passato, ma dura 10 minuti sul finale, ma non un'ora, due ore come tanti anni fa. e questo mi piace. Senti un po' di più la fatica adesso rispetto a una volta. Adesso sei all'80-90%, certo non sei più il ragazzino che si allenava tutti i giorni, che pensava, lo facevi di mestiere, prima adesso hai anche altro nella vita. Mi dicevi che a luglio sei stato un mese al Tour de France e in bici non ci sei praticamente mai andato. Sei venuto qui ad Appennini che hai detto, ma non so come va, come andrà, vedremo, voglio divertirmi, intanto sei secondo in classifica generale dei master. Ma, e c'è un ma, tu il primo giorno dopo la prima tappa hai indossato la maglia di leader. L'hai persa il secondo giorno perché c'è stato un problemino. Sì, ho bucato due volte, ho forato due volte e a questo momento quando è arrivato il leader di adesso ho provato di... ho provato di seguirlo e solo che faceva troppo caldo ho preso troppo gel da mangiare perché ho voluto assolutamente tenere questa maglia e mi è arrivata una crisi e a questo momento ho lasciato partire veramente e ho deciso di guardare il paesaggio e di dire, wow, è bello comunque la paninica. Ma è vero che il primo giorno non posso partire e mi dire oggi io faccio tranquillo domani veloce perché il primo giorno è dove io sono carico di più e quando io metto un numero dietro la schiena ho bisogno di andare e di provare fino a che io posso andare. Vai di nuovo in transe agonistica, dai, se può dire. Sì, perché tanti anni fa facevo le gare di un giorno solo in una etapa e questo lo so come mi gestisce con me stesso, il mio corpo e lo so che quando mi preparo per una gara anche siccome non è più come prima io riesco comunque ad avere un'adrenalina abbastanza forte per giocare ancora la vittoria su un giorno di gara e questo è bello. E tu in quella seconda tappa lì hai perso 19 minuti hai perso tanto ci siamo anche sentiti dopo gara hai detto sì, ho perso tanto vediamo da domani vado più tranquillo e guardo ancora di più il paesaggio che mi sto godendo e invece già da ieri e anche oggi sei andato forte stai recuperando qualcosina in classifica adesso hai 15 minuti da Vanlon quindi hai recuperato anche oggi sei arrivato davanti a Vanlon domani tappa regina e il DNA è buono sei un campione sì cosa ci aspettiamo per le ultime due tappe? Lo so che tutto è possibile in gara abbiamo ancora due o tre tappe da fare non sono che ho guardato ma comunque domani una gara venerdì e sabato sì esatto domani c'è veramente per me l'etapa più decisa per me per sapere se io posso provare di vincere forse questa maglia di leader ma 15 minuti di ritardo è tantissimo ma in mountain bike tutto è possibile è meglio fino a che non sono all'arrivo domani comunque provare e vedere quello che è possibile perché tutto è possibile in mountain bike e questa è la bellezza della mountain bike perché dalla partenza all'arrivo tutto può succedere hai detto che non avevi guardato la classifica ma adesso che ti ho detto che ti sei avvicinato secondo me domani parti in quarta sì perché ho visto che Bonnò ha iniziato di stare più stanco oggi l'ho visto stanco e ho visto che se domani è una grande etapa tutto può succedere e oggi quando lui si è staccato di me l'ho visto che ha mollato subito come dire non posso fare nulla e se io faccio ancora domani uguale penso che è una lunga etapa e più lui va forse provare di mi seguire o forse di non perdere troppo tempo e va rischiare di più e se rischia di più poi anche io va rischiare ma dopo il gioco della gara è così e questa è la bellezza di una gara e uscirà anche l'esperienza la bellezza anche di una gara tappe che è completamente differente da una gara di un giorno Miguel tu questo territorio questi posti un po' li conosci da queste parti venivi ad allenarti anche quando correvi in Mappei se non sbaglio allora quando ero con Mappei abitavo in Francia sulla costa d'Azur vicino di Nizza ma mi ricordo tanti sentieri dell'anno scorso che abbiamo fatto diversamente e queste montagne le conosco solo dell'anno scorso ma quando tu conosci un po' il terreno come anche sotto l'acqua e tutto è più facile per gestire veramente anche per la scelta dei materiali tecnici sì molto importante ma non è che io sono qui con un staff grande con il meccanico abbiamo tutto ma non è che io cerco la precisione come tanti anni fa perché non voglio stare troppo come prima io voglio veramente mi divertire e vedere come succederebbe poi in gara ma la vittoria c'era sempre in mente qua prima parlavo di Mappei tu hai corso anche su strada si parla tanto di multidisciplina non hai corso solo su strada hai corso anche su ciclocross e non abbiamo detto che uno dei tre mondiali che hai vinto è stato proprio nel ciclocross però l'amore vero è sempre stato per la mountain bike intanto cosa pensi della multidisciplina e perché poi hai scelto la mountain bike allora prima volevo stare un vincitore del tu tanti anni quando ero più giovane la maglia gialla mi faceva sognare e poi è arrivato il mondo della mountain bike tutto nuovo negli anni 90 e ho provato una gara ho provato un mondiale junior loro mi hanno preso perché era un campione di ciclocross e mancava un corridore dentro la nazionale mi hanno detto dai vieni fare questo mondiale vediamo e ho finito primo francese e settimo era junior primo anno era tre anni di junior e l'anno dopo sono andato a vincere questo mondiale e dopo sono venuto dentro la mountain bike perché era subito numero uno mondiale a 19 anni e a questo punto ho lasciato la strada ma quando ho vinto tutto dopo i mountain bike in 2000 ho deciso di fare il mio sogno il mio sogno era di fare il tour e di vincere ma solo che vincere l'anno 2000 è troppo difficile anche di fare un podio e ho realizzato il mio sogno sono andato con la squadra a MAPAE in 2002 ho fatto un bello tour e ho fatto una parte del mio sogno e questa è la cosa più importante potevo restare solo in mountain bike prendere più soldi ma per me soldi di contratti perché quando sei campione olympico puoi prendere veramente di più contratti ma ho preso la decisione di fare la strada perché era un sogno per me e quando mi è passato di quello che ho fatto su strada e anche in ciclocross sono veramente contento di mia scelta perché ho fatto tutti i sogni che io volevo e questa è la cosa più importante in vita ed è la multidisciplina che pensi adesso vediamo tanti atleti moderni passare proprio dalla mountain bike alla strada al cross ma tutto ha cambiato perché tanti anni fa la mountain bike sulle gare di cross country era due ore e mezza anche tre ore di gara adesso sono un'ora e mezza e loro hanno la possibilità di cambiare di fare anche strada e hanno allenatore hanno nutritionisti tanti anni fa non avevamo nessuno io non avevo neanche un allenatore facevo tutto con me stesso e non sono come dire sono riuscito ad andare forte solo da scrivere tutte le cose che mi va bene tutte le cose che non mi va bene e sono riuscito a crescere da solo da solo da solo anno dopo anno scoprendoti da solo esatto con il feeling e con il mio sentirsi sulle parti mentali le parti fisiche e sono riuscito a vincere così perché tanti anni fa non era ancora di moda di avere un allenatore e io ho stato il più non è che furbo ma il più preciso per andare per essere il meglio al mondo mi è piaciuto molto e mi piace ancora usciamo un attimo da Appenninica ma per un secondo perché buonsangue non mente tu hai un figlio professionista Lenin Martinez sta diventando un grande campione anche lui sì sono molto orgulloso di Lenin che ha 21 anni adesso è uno dei migliori al mondo scalatore su strada e l'anno prossimo lui passa la squadra a Bahrain e lo seguo sempre se parliamo quasi ogni giorno veramente per me è come un'altra medaglia di oro questa perché di avere un figlio che va bene così che mi ha ascoltato molto quando lui era più giovane e adesso lui sta facendo sua parte di vita sulla strada e per me mi fa ancora emozionare anche di più che quando io vincevo io quando guardo la tv mi fa emozione sempre anche la lacrima perché è troppo e sì io sono fortunato veramente e Miguel qui ad Appenninica abbiamo visto tante famiglie magari un giorno verrai proprio con Lenny qui ad Appenninica lui va in mountain bike sì Lenny va in mountain bike ma solo per divertire ma sì se parliamo di una cosa da subito da prima è che quello che io volevo vincere il tour un giorno io penso che Lenny ha la capacità di vincere un giorno il tour e questo per me è la più bella soddisfazione di avere il mio figlio che fa una cosa che non sono riuscito e per me è bello è bello perché sento e lo leggo nei tuoi occhi che credi molto nelle capacità di tuo figlio e ovviamente come ho detto buon sangue non mente anche il tuo papà era un grande campione quindi il DNA è buono e quindi noi auguriamo ovviamente a Lenny una grande fortuna chissà magari un giorno avremo un vincitore del Tour de France qui ad Appenninica siamo quasi in chiusura Miguel come stai vivendo questa esperienza ad Appenninica non è la prima volta che sei qui non so trovi un aggettivo per Appenninica ecco bellezza la bellezza di andare in mountain bike su dei parti naturali diversi della cross country che vediamo adesso in tv e questo per me è la bellezza della mountain bike in Appennina qui è bellissimo di andare in mountain bike qua e per quello che sono venuto qui per divertirti divertire e anche vincere e anche vincere tu sei qui anche per vincere perché lo sappiamo che la parte agonista c'è ancora e quindi dai Miguel intanto grazie per essere stato qui e grazie per essere qui ad Appenninica e avere un campione come te per noi è tanta roba come si suol dire è un piacere veramente per me di stare con le gente che vanno in bici per il piacere senza di aver fatto alti livelli come me per me è la cosa più bella di stare tutti insieme ti chiedono qualche consiglio? no ma mi fanno ogni tanto le selfie così mi ricordo di te quando tu erai il campione della mountain bike dell'anno 90 2000 mi hai fatto comprare la mia prima bici e questa è una bellezza di sapere che dentro le vittorie che faceva tanti anni fa loro sono venuti alla mountain bike e io vedo adesso e questo per me è come un'ingraziare è veramente bella che bello è veramente bello e queste sono le storie che escono proprio da Penninica allora grazie Miguel Martinez per noi è un grande orgoglio averti qui con noi è un orgoglio averti al processo La Tappa ritorna quando vuoi grazie Miguel all'anno prossimo ciao